Onorevole Silvia Velo, sottosegretario al Ministero per l'Ambiente, la legge sulla riforma portuale e sull'accorpamento dell'autorzise è stata lanciata. Una rivoluzione vera e propria dei porti, una rivoluzione che non poteva più attendere. Sì, è dal 94, la 84 del 94, che ha fatto tanto per sviluppare il nostro sistema portuale, che c'è una legge che andava ovviamente aggiornata, ricalibrata a un mercato che ormai è internazionale. Basti pensare a cosa significa oggi il mercato cinese, che nel 94 di fatto non c'era. Quindi una legge che modernizza la governance dei nostri porti, fa sistema, rende le autorità portuali più grandi e quindi più competitive, rende più snelle alcune procedure burocratiche, le procedure di Dogana e quant'altro, e quindi dà grandi potenzialità al sistema portuale italiano, a partire da quello toscano. L'accorpamento tra Livorno e Piombino può essere l'occasione per rendere strutturale la collaborazione che c'è già fra i due porti, che hanno caratteristiche diverse, un porto container, l'altro per le rinfuse, un porto crociere Livorno, l'altro sul traffico con l'Elba. Quindi i due porti non sono in competizione ma sono in sinergia e faranno del sistema portuale torscano uno degli asset dello sviluppo della nostra regione, soprattutto dello sviluppo dell'area costiera. Per quanto riguarda la battaglia sui dragaggi, nei porti ha trovato finalmente un percorso che taglia tempi e burocrazia in genere? Sì, io ho l'orgoglio di essere l'autrice di questo percorso, col mio ministero, insieme al Ministero dei Trasporti, dello sviluppo economico, con l'Istituto Superiore di Sanità, con l'ISPRA, col CNR. Abbiamo riordinato regolamenti dragaggi, abbiamo fatto due norme nuove approvate a dicembre nel collegato ambientale, un decreto per i dragaggi SIN che è al Consiglio di Stato e che sarà licenziato, spero, in poche settimane, un regolamento per l'immersione in mare, anch'esso al Consiglio di Stato e contiamo che venga licenziato in poche settimane, un anno di lavoro complicato che ha coinvolto anche le regioni, le ARPA, quindi un sistema complesso di enti scientifici e istituzioni che hanno condiviso una procedura nuova, certa, semplificata, ma nel rispetto del principio di precauzione e delle migliori tutele ambientali. Finalmente il tema del dragaggio dei fondali e anche dell'uso del materiale buono, dragato per il ripascimento delle spiagge, potranno avere, per gli enti autorizzatori, percorsi chiaro e limpidi, trasparenti. Per quanto riguarda la crisi dell'area piombinese, ci si avvia verso una soluzione o ci sono ancora problemi da risolvere? Direi entrambi, perché c'è un imprenditore che sta lavorando, sta presentando progetti, sta investendo, sta facendo delle scelte e quindi ci avviamo verso una soluzione. Al tempo stesso l'impegno è grandioso, sia da un punto di vista tecnico che finanziario e quindi noi attendiamo che l'impresa rapidamente faccia l'acquisto del forno elettrico, metta sul piatto gli investimenti, che trovi i finanziamenti necessari col sistema creditizio. è una partita che va oltre 400 milioni di euro, quindi complessa, e c'è bisogno di sveltire perché sono troppi anni di crisi e il territorio non riesce più a reggere questa incertezza.